Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori di miglioramento della sicurezza al momento ci sono un chilometro di coda tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze e rallentamenti tra la Strassigna e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno. È chiusa l'uscita di Ginestra Fiorentina provenendo dal Livorno. Per altri lavori è chiusa l'uscita di Tirregna provenendo da Firenze. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana. Sul raccordo Siena-Firenze è scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!